Il comune di Fossacesia in quanto a bellezze architettoniche, a monumenti e a turismo non ha nulla da invidiare ad altri comuni più conosciuti in Abruzzo e in Italia. Tra i monumenti più interessanti che inorgogliscono questo comune c'è sicuramente l'abbazia di San Giovanni in Venere. Ci sono delle importanti novità che riguardano questa abbazia, ne chiediamo conferma al primo cittadino Fausto Stante. Sì, noi siamo benedetti dal Padre Eterno perché abbiamo uno dei luoghi forse più belli di Abruzzo. Qualcuno questa mattina mi diceva forse uno dei luoghi più belli d'Italia, cioè annoveriamo una delle stelle, delle nostre fiori all'occhiello, sia abruzzese che nazionali. È sempre più meta di ospiti quotidianamente e la cosa che ci stupisce ogni tanto è il fatto che ogni giorno arriva qualcosa di nuovo. Quest'anno abbiamo avuto una bellissima sorpresa di avere scoperto casualmente dei reperti che sono datati 400 anni prima di Cristo e praticamente sono stati ritrovati i basamenti di cinque colonne che facevano parte del porticato del Tempio di Venere. Sono intatti, sono visibili, poi li vedremo. Sono veramente una scoperta che ci inorgoglisce e accresce l'appeal di questa località, oltre alla cripta che è stata restaurata due anni fa. Ci sono questi ritrovamenti. Questo è il luogo predestinato, il luogo dove sono stati ritrovati i cinque basamenti delle colonne che facevano parte del Tempio di Venere. Qua in questa invece sede, proprio qui dove c'è lo scavato, che adesso è stato ricoperto, ci sono state ritrovate delle tombe con una interessantissima perché una tegola che era a corredo di questa tomba ha delle iscrizioni in lingua osca che è praticamente la lingua prima dei greci ed è questa tegola che adesso è conservata nel Museo Civico di Santo Spirito a Lanciano ma che appartiene a questo luogo.